Musica Allora abbiamo cambiato formazione ma siamo sempre con gli Africa Unite per Babilonia e Poesia Tour e Max mi diceva prima che ho fatto una domanda su quello che può essere successo di buffo durante quel tour del 93-94 e l'aneddoto non è uscito prima ma invece c'è un aneddoto da raccontare e che riguarda tra l'altro il rivolta Cosa è successo? Quella che sto per descrivere è una delle situazioni di palco più imbarazzanti che mi sia mai capitato di vivere Ma per esperienza è una cosa grande allora Allora non mi ricordo qual era l'anno però sicuramente l'anno in cui Pittura Fresca ebbero veramente molto successo E sai come sono gli ambienti musicali? Sono sempre poco laici, si accendono sempre un po' gli animi, si creano le fazioni Il fatto sta che noi suonando a rivolta arrivamo, cioè la situazione era proprio di un intasamento generale di folla pazzesca C'era il centro sociale straripava di gente Fumo presentati sul palco forse da Steve Giant, non mi ricordo di chi? Probabile Come ecco loro sono veramente il gruppo numero uno in Italia, altro che i Pittura Fresca Cioè a casa i Pittura Fresca per me fu imbarazzante Sì certo Allora fra di noi ragazzi stasera bisogna veramente spaccare E incominciamo con un intro del periodo per la quale incominciava Madassi con le tastiere, io con la chitarra Era tutta una sorta di suspense anche un pochettino forzata apposta perché preludeva un ingresso robustissimo di dub Bene il fatto sta che questa suspense forzata incominciava a diventare veramente molto libero Era un po' a sentimento questa introduzione Chitarra, tastiere, saxofono, percussioni E aspettavamo l'ingresso della batteria Che non arrivò mai Perché il batterista ce l'avevamo dimenticati nella casa dove facevamo cena Partendo con il furgone E... Era andato al gabinetto Era andato al gabinetto, noi siamo usciti, ci siamo tutti, sì ci siamo tutti, siamo partiti E lui si è ritrovato in casa da solo Ma ti parlavano perso un'aere? Sì è uscito e non ha trovato nessuno Allora ha scavalcato dalla finestra, è andato in strada e ha cercato il rivolta perché doveva arrivare Nel frattempo Nel frattempo la situazione era diventata insostenibile Cioè noi continuavamo a... A prolungare questo intro A torturare la gente con questa intro Che era diventata francamente imbarazzante E purtroppo ci venne in testa una malaugurata idea di suonare lo stesso con lui Che si precipita la batteria Realizzando che il batterista non c'era Inizialmente pensavamo che fosse in giro a bersi una birra E invece E poi cercammo di accrocchiare con una cover di mare Insomma una roba veramente disastrosa Poi è riuscito ad arrivare Ce lo racconta dopo Tutto a posto poi E invece visto che voi come esperienza ne avete alle spalle Suonare in Italia e suonare all'estero Visto che andate anche all'estero poi proprio per questo tour Ma è chiaro che suonare in Italia Insomma è diciamo tra virgolette È ormai facile Dopo tutti questi anni che insomma Bazzichiamo Insomma in questi posti Poi alla fine i club sono quelli Purtroppo in questi ultimi anni sono sempre di meno Perché molti non sono riusciti a superare questo momento critico E purtroppo non ci sono più E quindi chiaramente Quando suoni in Italia Chiaramente puoi contare su un pubblico Che sa che cosa fai Chi sei Cosa hai fatto E quindi è abbastanza facile Se suoni all'estero Chiaramente questa roba viene sicuramente un po' meno Però è una bella sfida Nel senso il fatto di Andarsi a cimentare con una situazione In cui devi un po' dimostrare Quindi ti metti in discussione Di nuovo è una bellissima cosa Anche se Bisogna dire che chiaramente Quando un gruppo italiano va a suonare all'estero Diciamo il 60% del pubblico È italiano comunque Per fortuna Comunque vi viene a vedere il pubblico italiano C'è comunque una componente del pubblico Che tu devi trovare il modo per interessare Per conquistare Per conquistare E qui è una bella sfida Nel senso che È da un paio di anni che stiamo cercando di fare Questo tipo di lavoro Perché ci piacerebbe riuscire a creare Degli spazi Dei circuiti nuovi Perché pensiamo che La musica italiana sia assolutamente matura E preparata E non abbia niente da invidiare A delle cose Solo che vengono da fuori E visto i ritmi del tour Non invidiate un po' la situazione all'estero Dove Quando si dice che il concerto comincia alle nove e mezza Alle nove e mezza comincia Anche per voi come musicisti Che dovete cominciare alle 11 e mezza Ma secondo me Sai cos'è Ti bisognerebbe veramente Prendere una posizione E dopo quattro volte Che il tipo arriva E il concerto è finito Vedrai che viene Arriva presto Vero Però chiaramente Qualcuno che comincia questa roba Non è facile da trovare Carino perché poi inizia alle otto e mezza Alle dieci e mezza Undici hai finito E ti puoi godere la serata Anche dopo C'è l'after show dopo E te lo godi È molto carino Assolutamente sì Max sta zitto su questa cosa Tu cosa pensi? Vai Aspetta No dai Nico ha già Come si dice Già la risposta Mimandola Ma speriamo di avere ancora Insomma La stessa attitudine Che abbiamo adesso Nel senso che fondamentalmente Noi suoniamo E abbiamo suonato in questi anni Perché è una cosa Ci diverte molto E di conseguenza Se ti diverti Bene o male Riesci anche a trasmettere Delle sensazioni positive Insomma al pubblico Speriamo di avere ancora Questo atteggiamento qua E speriamo ancora Di avere un pubblico Speriamo ancora Di riuscire a creare Un minimo di interesse Tra la gente che ci ascolta E ci segue Finora ci abbiamo fatto Beh per ora ci state riuscendo Alla grande Sto pensando quanti anni Avrai tra vent'anni No sto pensando Che ho già Ho già il nome per il tour Jerry Africa Unite Grandissimo Mettiamo al mercandese I cateteri Firmati Il sole Pagalli Tutto Non è mica facile Quello che state facendo Anche a livello di energie Per cui invece Ce l'avete Ce l'avete Per fortuna Non è che sia cambiato così tanto Quella roba lì Ce l'abbiamo ancora Meno male Siamo così tanto vecchi Esatto Tiriamo un po' l'acqua E qualcosa che non sopportate Tra di voi Tipo non so Solo quelle Magari c'è il maniaco Che si deve sempre Lavare le mani O qualcosa del genere Ma guarda Situazioni così Anche no Tendenzialmente E invece per la scena musicale Italiana Dei giovani Che si stanno Approciando Diciamo Al mondo musicale Sia a livello di reggae Che di altri genere Tu prima hai parlato Che è molto più Maturo E anche a livello tecnico Molto più valido Di quello che potevamo fare noi Chiaramente 30 anni fa Naturalmente Ma nonostante la bravura Purtroppo non è sempre quella Che Come si dice Che porta ai risultati Perché ci sono dei gruppi Assolutamente bravissimi Che purtroppo Non hanno gli spazi Per farsi ascoltare Purtroppo viviamo In una situazione In cui Gli spazi Diciamo tra virgolette Un po' alternativi Sono pochi Nel senso che Insomma i network Continuano a trasmettere Le solite cose Ci andrebbero Cioè benvenuti I circuiti Come quello di Popolare Che comunque Dà spazio anche A delle cose nuove Certo Perché se no sarebbe Veramente complicato E benvenuti In situazioni come I centri sociali Che danno anche spazio A delle Perché forse I locali per assurdo Preferiscono fare Le cover band Invece dei gruppi Di musica regionale Ma se uno fa un ragionamento Lo può anche capire Perché se tu metti fuori Una locandina Con scritto Cover band di Vasco Rossi La gente sa Che cosa va ad ascoltare Se metti XY Magari sono il gruppo Più bravo del mondo Ma è più complicato Anche se lì a volte Penso che forse Servirebbe proprio Una sorta di movimento Culturale Verso le persone Educazione Esatto Verso l'ascolto Di cose nuove No? Sì Sta di fatto che però Quando la musica Ha avuto L'intensità Sufficiente Per arrivare È sempre Riuscita a rompere Gli argini Da questo punto di vista Non a caso Stiamo parlando Ancora oggi Di un album Che è Babilonia e poesia Che è l'album Che ha cambiato Definitivamente L'approccio A regge Per quanto riguarda La cultura italiana Per un motivo fondamentale Cioè una volta acquisito Il linguaggio Non ci si è fermati A ripetere La lezione a memoria Di una musica imparata Scimmiottando qualcun altro Ci si è spinti Si è avuto l'ambizione Di spingersi oltre Sia dal punto di vista Sì forse adesso Sono molto tecnici Ma scimmiottano Invece Non so La cosa che puoi insegnare Ancora oggi Un album come Babilonia e poesia È il fatto che È riuscito intorno A un linguaggio Ad avere La capacità Di condensare Anche tutta un'altra serie Di sfumature Sonore Che erano un po' Le cose che noi ascoltavamo Extra Musica e regge È un album Crossover È un album Dove ci sono Addirittura Gli elementi Folcloristici Italiani Sono degli strumenti Assolutamente strani Alla tradizione Del reggae giamaicano Diciamo Babilonia e poesia Come elemento centrale Di un percorso Che parte con People Pie E arriva fino a Un sole che brucia E poi soprattutto Con l'italiano Cerca anche di spingersi Poeticamente Al di fuori Degli stereotipi Del reggae Ok Allora Questa cosa qui vale Sempre come approccio Chiunque lo Lo faccia Chiaramente Poi Voglio dire Sta al talento Le capacità Di chiunque Riuscire a fare La differenza Però senza Non si può Prescindere da questo Tipo di approccio Se si vuol fare una cosa Che riesca ad arrivare A molte orecchie Anche se sono Non solo quelle Preconvertite Che possa Fare Rappresentare Anche uno scatto Di qualità All'interno Della musica italiana Che possa presentarsi All'estero Come qualcosa di autentico Ho capito Che forse è quello Che se penso Ai mello mood Che piacciono molto Anche a me Forse un po' manca Perché cantano ancora Solo in inglese Non hanno ancora Rischiato Sono bravissimi E insomma Si potrebbero Tranquillamente Rivolgere a un Come si dice A uno Scenario A una scena Europea Internazionale Perché Qualitativamente Sono bravissimi Gli manca Il fatto Della caratteristica Del fatto Che siano un gruppo Di Pordenone Certamente Vabbè Tieni conto Che sono ancora Molto giovani Sono davvero giovani Ci sta Ci sta Però tecnicamente Sono molto bravi Ma non solo loro Sono situazioni Tipo Mamma Maria Tipo i Bundabash Che sono Insomma Un po' i nuovi Su Sound System Che sono anche Interessanti Ce ne sono tante Però come dicevi tu prima Giustamente Manca l'educazione E quindi purtroppo Il gusto viene dettato Da chi fa le playlist Chi fa la roba E quindi la gente Chiaramente Non è abituata A sentire delle robe Un po' diverse E quindi diventa difficile Anche propogliarle Perché Manca La solita educazione Bene Io vi ringrazio Siamo pronti Ad ascoltarci Questo live Sarà energico Saremo sotto A ballare Sicuramente Noi sopra E voi sopra Giustamente Grazie mille Grazie a voi Grazie Buona serata